A me è un uomo, è Francesco Monica, ho sbagliato, le chiedo scusa, colpa mia Ecco invece io sono puro, quel che è vero è vero e quel che è falso è falso Tocca a te, tocca a me bene Grazie doveroso a tutti coloro che hanno fatto questi fantastici carri allegorici Tutti coloro che si sono spesi per preparare Passa tutto l'Inps, è stato il primo invalido, il primo invalido civile Ragazzi dovete fare qualcosa per questi uomini Voi vi impegnate Siamo con il castlaino, la castlaina appena rientrata alla città del Vaticano La visita del Papa, com'è andata? Tutto bene? Sì, beh, ciao a voi Sto mettendo il coriandolo che basta da voi Sì, anche un po' di tetta, mi piacerebbe molto, devo essere sincero E invece no, va a vedere Ho mangiato il primo coriandolo, lo dichiaro, lo dichiaro È buono Sì, anche un po' di tetta, mi piacerebbe molto, devo essere sincero Sì, anche un po' di tetta, mi piacerebbe molto, devo essere sincero Sì, anche un po' di tetta, mi piacerebbe molto, devo essere sincero Sì, anche un po' di tetta, mi piacerebbe molto, devo essere sincero Sì, anche un po' di tetta, mi piacerebbe molto, devo essere sincero Grazie a tutti.